C'è un solo uomo che potrebbe fare in tempo. La strada 35 a 635 miglia a sud di Bandai. Ma c'è un po' di Bambi. Oh, che clai! Sì, 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 il suo volo è finito, adesso seguici fino all'aeroporto militare, avanti, devo cercare di fare il furto. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì.